Ad Avellino nasce il parco della stazione a Borgoferrovia che attraverso il Fenestrelle si riconnetterà a Parco Santo Spirito. Si annuncia una rivoluzione non solo urbanistica ma anche legata ai trasporti cittadini. Sarà realizzato un terminal bus col famoso parcheggio anche di interscambio per far sì che si possa organizzare una convivenza costruttiva tra trasporto su gomma e su rotaia e per dare anche molta più utilità anche alla metro leggera sarà riqualificata l'intera area con edifici storici. Ma proprio l'argomento dei ritardi sul progetto di rilancio del Fenestrelle offre l'assist a festa per attaccare la regione e i suoi inadempimenti nell'erogazione dei fondi. Da cinque mesi non viene fatta una presa d'atto per i PICS, da un anno perché non viene riconosciuto il museo, perché il parco del Fenestrelle non passa in Consiglio regionale, ho fatto la domanda datevi una risposta. Nel frattempo la metropolitana leggera richiederà ancora del tempo. Siamo alle batture finali per autorizzazioni, per l'esercizio, dobbiamo integrarla però nel sistema di trasporto pubblico locale e quindi anche su questo stiamo ragionando con l'AER per i tempi, può essere il 15 settembre, il 1 ottobre. Sul fronte politico intanto festa ha incassato l'adesione di Livio Petitto a Davvero dopo l'addio al PD. Il nostro è un progetto ambizioso, puntiamo alla ribalta nazionale. Oggi può sposarlo senza più il problema del PD al 100% e noi continueremo con l'organizzazione di un soggetto regionale, a vocazione anche nazionale, che parla ai territori e che si interfaccia con le comunità.